...97, il numero 6... ...30 anni... ...33... ...Chi sei quello? ...Franco dove è sciato? ...Cando io non ho... ...No, tutti giù, come sei? ...No, vado a dire qua... ...Ahh, comunque... ...Ciccio, ma così... ...quando te sei... ...Sì, non mi ha tutto passato... ...Di, non mi ha tutto passato... ...Di, non mi ha tutto passato... ...Basco! ...Basco! ...Basco!